amiche creative ciao eccomi qua per salutarvi non è che ho dimenticato di fare tutorial e video ma sto facendo dei lavori qui nella craft room e quindi tutto un po sotto sopra spero nella prossima settimana di fare fine a questo a questo caos e per poter poi di iniziare a fare qualche tutorial e condividerlo con voi perché nel frattempo devo sistemare la stanza e fare gli ordini che già ho in corso e adesso mi uccideranno intanto vi mando dopo questa presentazione vi mando qualche foto proprio dell'inizio cioè dal mio trasferimento dalla della vecchia casa a questa qui i primi lavori le prime cose poi ci sarà uno stop infatti non vedrete neanche questa parete finita ma a breve vi farò proprio un giro di tutta la stanza così magari chi la deve fare può prendere spunti idee e magari anche chiedermi qualche informazione che sarò lieta di potervela dare vi saluto e spero di condividere con voi presto presto un nuovo tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere mi piace di andare sulla mia pagina nel cuore di elisa ciao 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 ciao